Frind nasce ufficialmente tra virgolette oggi con la presentazione presso l'Università di Perugia. Quali saranno i prossimi passi di questa applicazione che ambisce a diventare un nuovo tormentone social? Allora, beh, Frind parte dall'Università di Perugia perché alcuni componenti del nostro staff hanno fatto parte dell'Università di Perugia, hanno studiato qui. Quindi siamo partiti da un luogo per noi importante. I prossimi passi di Frind saranno sicuramente andare in beta test per l'ambiente IOS nei prossimi giorni, per cui invito tutti a iscriversi al nostro sito per poter iniziare a vedere le curiosità che ci sono all'interno dell'app e poterla scaricare in beta test. Poi alla fine di settembre, i primi d'ottobre, andremo negli store ufficialmente sia per l'ambiente IOS che per l'ambiente Android. Questo è un po' il percorso che stiamo seguendo. Siamo partiti adesso, abbiamo molta strada da fare, ma so che abbiamo anche tanta voglia di poter migliorare e andare avanti. Un'app social che nasce dall'idea di quattro giovani Umbri che ambisce a diventare un successo internazionale. Perché avete deciso di presentarla oggi all'Università di Perugia? Diciamo che noi siamo, io e l'altro socio, siamo degli ex studenti, quindi abbiamo studiato e ci siamo formati qui all'Università di Perugia. Ci sembrava carino, insomma, anche per, innanzitutto, far conoscere a chi ancora sta studiando quello che un po' sta succedendo, quello che stiamo facendo, tecnologie anche magari nuove, diverse da quelle che sono forse abituati a vedere sempre qua all'Università. Diciamo che se quando ero studente ci fosse stata una presentazione del genere, mi avrebbe fatto piacere, quindi l'idea è nata principalmente da qui. Cosa farete concretamente oggi? Allora, quello che facciamo oggi è spiegare in maniera abbastanza tecnica come si può realizzare un'applicazione che ha ambizioni internazionali e quindi che va incontro a tutta una serie di problematiche, sempre tecniche, che possono essere tanto traffico, tanti utenti, quindi cercare di capire come, con quali strumenti, tutti questi problemi si possono risolvere. Daniele, tu sei uno dei fondatori di Friend. A te chiedo, che cosa è Friend? Friend è un tentativo di riportare, per quanto possibile, le persone a vivere una socialità, fatta appunto di incontri. Quindi l'obiettivo, tramite la realizzazione di quest'app, è dare qualcosa che sia un mezzo per incontrarsi, non un fine. Perché finora, diciamo, l'esplosione che hanno avuto i social negli ultimi anni ha portato a un'ipercomunicazione che a volte rende comunque lontane le persone per certi casi. Mentre quello che va fatto, secondo me, è cercare di, tramite la tecnologia, favorire l'incontro tra le persone. Perché quando c'è l'incontro c'è lo scambio, quando c'è lo scambio c'è la crescita. Di conseguenza, possiamo vedere Friend come un tentativo, speriamo più che riuscito, di riavvicinare ancor più le persone tramite la tecnologia. Nel momento in cui Friend sarà negli store, io scarico questa applicazione sul mio telefono. Cosa succede dopo? Come mi muovo? Succede che tu farai la tua vita come prima, però sarà aiutata da questo strumento che ti permetterà di organizzarti in modo migliore e più efficace con i tuoi contatti e quindi ti permetterà in un modo semplice e poco invasivo di incontrarti. Di incontrarti, diciamo, quando è possibile e quando entrambi lo vogliono. Quindi, appunto, c'è una sorta di discrezionalità che cerchiamo, appunto, di garantire. Se non voglio far sapere, quindi, dove sono, con chi sono, ma voglio semplicemente condividere un momento con i miei amici, potrò utilizzare Friend? Potrebbe essere l'app che fa per te, sì. Quindi, quando potrò scaricare Friend sul mio cellulare? Ti invito a rimanere connessa seguendoci sul sito per seguire gli aggiornamenti. Perché sicuramente nei prossimi mesi si avrà la possibilità di scaricare quantomeno un'anteprima e in seguito usciranno le versioni ufficiali dell'applicazione. Oggi Friend approda sui banchi dell'Università di Perugia. Come mai la scelta di presentare ufficialmente l'applicazione nelle università? Due dei nostri soci operativi vengono proprio da questa università. Quindi ci è sembrato giusto esporre la nostra esperienza e ciò che stiamo facendo e stiamo portando avanti anche ai ragazzi che studiano queste materie. Lei ha creduto in prima persona in questo progetto sposandola anche finanziariamente. Come mai appunto appoggiare un'idea così innovativa in un territorio così piccolo come appunto è l'Umbria? Innanzitutto mi piace il settore, questo qua, delle applicazioni sul social. Poi mi è piaciuto anche il progetto perché prevede degli scenari che ad oggi non sono soddisfatti dall'attuale panorama delle applicazioni. Quasi per gioco nasce Friend. Cosa vi aspettate in realtà per i prossimi passi, per il futuro da questa applicazione? Ci aspettiamo che questa applicazione sia interessante anche per, oltre che alla platea di chi la utilizzerà, anche ad altri investitori che crederanno nel progetto e ci aiuteranno a sviluppare questo meraviglioso progetto. Friend, ospite dell'Università di Perugia, come mai la scelta di ospitare questi quattro giovani umbri che hanno avuto questa idea di creare una nuova app social? Uno dei motivi è che uno dei ragazzi, un mio ex studente, si è lavorato con me qualche anno fa. Siamo sempre stati in contatto e poi mi ha detto che varie vicissitudini hanno portato da Roma a tornare nel territorio umbro e quindi con tanto piacere che l'ho ospitato durante questa giornata che noi facciamo tutti i giovedì dove con i ragazzi qua del corso di l'area in informatica ci troviamo per un'esperienza didattica diversa da quella che normalmente si fa. Non c'è più il docente da una parte del banco e lo studente dall'altra parte ma si coinvolge il processo di apprendimento in maniera complessiva nel senso che lo studente e anche se stesso docente vengono assegnate dei compiti ai vari studenti che per esempio oggi prima della presentazione di Friend ci sarà un altro studente che presenterà gli altri, oggi sarà una giornata dedicata a database per esempio. All'interno del progetto facciamo varie cose, oggi prima del vostro arrivo abbiamo svolto una cattur de flag, una manifestazione dal punto di vista della sicurezza informatica che svolgiamo da vari anni e oggi è l'evento cru. Come ha già detto lei uno dei ragazzi fondatori di Friend nasce pronto tra i banchi di scuola dell'Università di Perugia, è il primo esempio o ci sono già altri esempi di successi informatici ma diciamo che al momento d'oggi la maggior parte dei studenti si laureano e già trovano subito lavoro quindi già questo è un successo dal punto di vista nostro come docenti e come didattica informatica e Piro Landi, il nome del mio studente, ci rende ancora più fieri di questo perché ha voluto provare un qualcosa di suo quindi proviamo a fare una nostra ditta, proviamo a investire nel modello Silicon Valley troviamo un investitore, dalla nostra parte ci mettiamo l'inventiva, la genialità e dall'altra parte troviamo un investitore che ci crede e porta avanti il prodotto quindi è stata una bella cosa. L'Università di Perugia oggi ospita Friend abbracciando a pieno questo progetto pensate che anche in futuro continuerà questa collaborazione con questi quattro giovani Umbri? Certamente rimarremo in contatto perché facciamo cose molto interessanti fanno loro cose interessanti legate all'attività didattica sia del Dipartimento che del Corso di Laurea e il Dipartimento e il Corso di Laurea sono sempre stati aperti anche nelle attività del territorio quindi probabilmente sì, saremo sempre in contatto. Vediamo sul manifesto la scritta Captur de Flag, ci spiega cosa significa? Ah sì, questo è un esercizio molto interessante che svolgo con i miei studenti al termine del Corso di Sicurezza Informatica dove gli studenti sono chiamati a spendere sul campo le potenzialità acquisite durante il corso l'idea è che gli studenti fanno sia la parte del cattivo, degli hacker sia la parte del difensore della macchina e c'è una specie di combattimento al suor di attacchi informatici tra una macchina e l'altra fino a decretare alla fine il vincitore ci siamo trovati qui proprio in questa giornata da stamattina alle 9 fino alle 15 e insomma ci siamo divertiti in questa maniera, molto bello direi